Momento di tensione al grande fratello con Beatrice che è apparsa molto infastidita, di fronte a ciò che starebbe subendo Garibaldi. Una volta che lei ha saputo tutto, durante una conversazione con Giuseppe in cucina lo ha spronato praticamente a reagire e a ribellarsi quindi a queste situazioni poco piacevoli. Non si escludono quindi duri scontri con altri concorrenti. Nonostante abbia raggiunto ormai la finale del grande fratello, Beatrice è sempre dentro ogni dinamica del reality e non si tiene nulla per sé. Sapendo quello che era accaduto a Garibaldi, ha iniziato a dire il suo pensiero ad alta voce e a difendere il bidello originario della Calabria. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato nelle scorse ore nel programma. Nella casa del grande fratello Beatrice si è resa conto che Garibaldi era costretto a fare ripetutamente diverse cose al posto degli altri concorrenti. Quindi, in quel momento stava passando anche Paolo che probabilmente ha udito tutto. Chissà se avrà avvisato anche gli altri geffini, che sono stati tirati in ballo dall'attrice che fu protagonista della sopa opera Vivere. L'utente che ha condiviso il filmato ha commentato, comunque ha ragione Beatrice, non è normale che debba fare sempre tutto Giuseppe in quella casa, ci sono 15 cristiani e ogni tanto lui potrebbe anche riposarsi. Infatti, Laluzzi ha detto, da su Giuseppe, quando è troppo è troppo. Hai fatto la cucina fino a stanotte, adesso il bagno lo farà qualcun altro, lo hai fatto l'altro ieri. Chiedilo a qualcuno. E capiremo anche nel corso della puntata in diretta del 14 marzo se questo argomento, relativo alla pulizia della casa, sarà tirato in ballo. Anche perché Garibaldi farebbe più del dovuto.